Sono qua all'ex mercato otto funticolo con il presidente di AEM. AEM ha battuto le pensiline in quella zona, ora dalla settimana prossima verranno abbattute le pensiline che vedete lì, erano faticenti e pericolose. Questa zona è restituita a che cosa? Qui ci sarà un parcheggio gestito da AEM e il parcheggio servirà per tutto questo comparto, là vedete il polo tecnologico, lì c'è l'ex macello, sono finiti i lavori di bonifica dell'amianto che era sotto e dalla settimana prossima ricominciano i lavori di abbattimento dell'ex macello per l'insediamento di nuove attività produttive. Così quest'area di parcheggio diventa un'area utile a servizio dei lavoratori e di questa zona e dell'insediamento di nuove attività produttive. È un'altra zona regenerata, è un'altra zona restituita alla città ma non abbiamo finito perché a noi interessa poi reintervenire ancora, intervenire in maniera massiccia su tutto il comparto dell'ex mercato ortofrutticolo. Qualche intervento l'abbiamo già fatto ma gli interventi devono essere ancora più grandi perché vogliamo che diventi una cittadella dell'economia solidale.